in modo addirittura eclatante. Sono già intervenuto a nome di Forza Italia sullo stesso tema in sede di pregiudiziare di costituzionalità, facendo valere quella volta argomenti di natura formale. Oggi voglio richiamare l'attenzione dell'Aula invece su aspetti di natura politica. Mi pongo e vi pongo colleghi una domanda. Quanto accade tutti i giorni sotto i nostri occhi? Ci dice che il nostro Paese ha necessità ed urgenza di allentare queste maglie o invece semmai di restringerle ulteriormente se possibile? Io credo che mai come in questa occasione la risposta non possa che essere una sola. I nostri confini sud sono troppo permeabili e sono i fatti e non le parole a dimostrarlo. La legislazione andrebbe resa ancora più stringente e rigorosa. Mi spiego meglio. Questo decreto legge è datato 21 ottobre 2020 ed in quella data è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale. Solo a distanza di otto giorni dalla sua pubblicazione il terrorista islamico tunisino Brahim Moussaoui ha sgozzato nella cattedrale di Nizza il sacrestano e i due fedeli che vi si erano ritirati a pregare. Gli inquirenti hanno potuto verificare che il terrorista era sbarcato alla fine del mese di settembre 2020 a Lampedusa e fino a qui non pochi giorni prima dell'attentato era stato presente nel nostro paese che aveva risalito indisturbato nonostante fosse destinatario di un'ordine di espulsione fino alla frontiera francese passando da Roma a Genova con il treno. Questo gravissimo episodio ha dimostrato in modo direi quasi scolastico che purtroppo la disciplina oggi vigente in materia di immigrazione è inadeguata a contrastare il terrorismo perché fin troppo l'assista e ha esposto il nostro paese e il nostro governo ad una colossale figuraccia internazionale. Non a caso il nostro paese è stato escluso dal vertice europeo sulla sicurezza del successivo 10 novembre organizzato dai presidenti Merkel e Macron. Io credo che lei, il viceministro Mauri, in quelle ore doveva essersi sentito molto imbarazzato come me lo sono sentito io. Anzi, le confesso, il viceministro, che io come rappresentante delle istituzioni italiane mi sono proprio vergognato di fronte al popolo francese. Poco fa il collega Raciti, intervenendo, ha detto che la credibilità del nostro paese passa attraverso questo decreto legge. Ecco, io personalmente credo che la credibilità del nostro paese sia andata perduta in quell'occasione e di fronte ai nostri partner europei. Il presidente Macron ha parlato esplicitamente di falle nelle frontiere esterne di uno Stato membro dell'Unione Europea. Più chiaro di così. Nonostante quanto accaduto, la maggioranza invece insiste nel proseguire nell'esame di questo decreto, che a fronte del gravissimo incidente di Nizza avrebbe dovuto invece essere lasciato cadere. Non appare comprensibile ed appare inspiegabile che il governo, in piena emergenza sanitaria, economica e sociale, ritenga oggi necessario e urgente modificare i decreti salvini, che un'efficace risposta al fenomeno dell'emigrazione incontrollata dal Mediterraneo l'avevano pur data. Sono ben altre, oggi, le priorità per il paese. Il tragico episodio di Nizza ci consente di porre l'attenzione anche diverse altre problematiche di carattere geopolitico. Innanzitutto ha spazzato via tanta retorica a buon mercato, propagata negli ultimi anni, in particolare dalla sinistra, del tipo Lampedusa, Porta d'Europa. Oppure i terroristi non giungono sulle nostre coste con i barconi. Se non sbaglio, lo dicevano il Premier Renzi, io ho annotato dalle agenzie una dichiarazione del 18 novembre 2015. E l'attuale commissario europeo Gentiloni, anche qui una dichiarazione dalle agenzie del 24 gennaio 2015. Peraltro va ricordato che dalla Tunisia era giunto su un barcone via mare anche Anis Samri, il terrorista protagonista della strage del mercatino di Natale a Berlino nel dicembre 2016, che poi per fortuna venne neutralizzato nei giorni successivi dei due bravissimi agenti della Polizia di Stato dopo una sparatoria a Stesto San Giovanni. Il fenomeno del transito dei terroristi attraverso i barconi quindi non è recente, ma ormai provato e consolidato. Una ulteriore riflessione la merita anche la Tunisia. La Tunisia è un paese amico con cui siamo legati da forti rapporti economici, politici e storici. Abbiamo, credo tutti noi, Presidente, passato delle bellissime vacanze sulle sue spiagge e sulle sue oasi nel deserto ed abbiamo amato il carattere ospitale della sua popolazione. Ma non possiamo tuttavia ignorare alcune gravissime criticità che riguardano questo paese, pur amico e alleato. Ogni giorno sulle nostre coste proviene un afflusso imponente ed ininterrotto di migranti di cittadinanza tunisina e si lo fanno evidentemente a causa di una grave crisi economica. Giungono tuttavia un paese che ha visto decrescere il proprio PIL in un anno di oltre il 10% per l'emergenza sanitaria e che non ha nessuna possibilità di accoglierli. Chi arriva dalla Tunisia è un migrante economico perché con tutta evidenza la Tunisia è un paese democratico che non perseguita i propri concittadini. Questi migranti però non hanno titolo per ottenere protezione umanitaria né asilo politico. Di converso le statistiche ci dicono che purtroppo, e questo dato, Presidente, lo registriamo davvero con grande dolore, la Tunisia è da tempo una fucina di terroristi islamici. Con grande rammarico constatiamo che è il paese che in proporzione alla popolazione ha fornito all'ISIS il maggior numero di foreign fighters. Questi dati ci dicono che i tunisini che giungono nel nostro paese clandestinamente dovrebbero essere immediatamente respinti e riaccompagnati nel paese di provenienza e non lasciati scorazzare liberamente nel nostro territorio nazionale come è accaduto con il citato Brahim Assawi. Ecco perché ripeto che questo decreto legge non ha alcun significato nell'attuale contesto storico. Non abbiamo bisogno di allentare le maglie della immigrazione. L'approvazione di questo decreto costituisce a tutti gli effetti un messaggio devastante che sul piano comunicativo sarà interpretato sul lato sud del Mediterraneo.